Abbiamo cercato di toccare un pochettino tutti i punti della nostra vita quotidiana, a partire dall'informazione, per arrivare al teatro, per arrivare ai principi, ai valori, alla legalità. Ecco perché partiamo da sabato 9, partiamo da sabato 10, scusa, partiamo con il ricordo. Con il ricordo quest'anno ricorre il trentesimo anniversario della morte di Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla Camorra 30 anni fa. E lo ricordiamo con Nello Trocchia, che è un giornalista collaboratore della Sette, dell'Espresso, che tra l'altro è stato minacciato dalla Camorra e stiamo raccogliendo le firme affinché gli venga data una scorta. E con Paolo Migiano, che è un giornalista e scrittore napoletano che conosce alla grande, nei dettagli, la realtà di Napoli e di Forcella, visto che ha scritto anche un libro, Alis Pezzate, appunto nel ricordo di una ragazza uccisa a Forcella. Quindi partiamo dalla legalità, partiamo dai principi cardini, secondo me, della democrazia, a partire dal giornalismo. Ecco, quello che ci tengo a precisare è il giornalismo. Che cosa significa fare giornalismo in Italia? Se siamo ancora un paese libero, se veramente siamo un paese democratico, come crediamo fosse di esserlo, però in realtà non lo siamo, visto che poi, andando a guardare le classifiche, ci ritroviamo oltre il settantesimo posto della libertà di informazione. Ecco perché ho cercato di partire dai pilastri della democrazia. La politica, la politica è fondamentale, la politica decide, la politica può cambiare le cose, però prima della politica arriva il giornalismo. Il giornalismo è la corretta informazione, la verità, mettere al centro i fatti. Quindi abbiamo deciso di partire da qui per poi arrivare ad Olivier Robea, altro grande giornalista e conduttore televisivo, che parlerà dell'intramontabile Gino Bartali, quindi un pochettino la sua storia, non solo da professionista nell'ambito del ciclismo, ma in modo particolare l'essere umano. Quello che è stato Gino Bartali, che cosa ha fatto? Naturalmente non voglio svelarvi il tutto. E che cosa ha portato avanti? Una battaglia quando c'era il periodo del nazifascismo in Italia. Quindi per capire anche determinati personaggi, quando sono forti, che cosa possono dare oltre allo sport, che appunto è anche cultura. Ecco, quindi è un insieme che alla fine ci riconduce sempre alla cultura. Per poi terminare ricordiamo appunto le culture, la cultura è la tradizione del nostro ambito locale, quindi anche di Napoli. Ricordiamo il teatro del grande Edoardo De Filippo, anche lui scomparso più di 30 anni fa. Tra l'altro l'anno scorso l'abbiamo ricordato nella manifestazione. Quindi ci saranno dei ragazzi di Napoli che porteranno questo spettacolo teatrale. Questo per quanto riguarda il sabato. Per quanto riguarda la domenica abbiamo un programma ricchissimo. Partiamo dalla poesia, altro punto centrale della cultura, con una poetessa del nord che mi ha particolarmente colpito e tra l'altro l'ho incontrata per caso ad una festa di compleanno. Ho avuto questo splendido dialogo, ma non solo la poesia, ma l'interpretazione della poesia. Quindi c'è questa unione forte delle parole con l'interpretazione espressiva da parte di questa poetessa che appunto abbiamo la fortuna di avere qui ancora per poco perché tra un po' partirà. Poi abbiamo appunto i giornalisti, ritorniamo anche nel secondo giorno all'informazione. Abbiamo i giornalisti del Fatto Quotidiano, ho scelto di portarli qui perché è l'unica testata in Italia che fa dal mio punto di vista una buona informazione, ma soprattutto lo fa in modo libero e indipendente senza ricevere finanziamenti pubblici, ma sostenendo le proprie spese di redazione e di stampa solo grazie al contributo dei propri elettori e della pubblicità. Ecco perché ci tenevo a portarli qui, a parlare dell'informazione libera e indipendente e a dire come si può fare il giornalismo anche e soprattutto senza ricevere il finanziamento pubblico. Poi successivamente, dopo la libertà di informazione, abbiamo Claudio Cubitosi, il presidente e direttore artistico del Film Festival di Giffoni. Lui mi ha praticamente colpito e catturato in un'intervista che fece qualche tempo fa su Rai 1 da Gigi Marzullo dove raccontava come in un piccolo paese come Giffoni si potesse creare un grande festival internazionale. Un paesino di 8.000 anime che adesso arriva da 12.000 persone ha creato ricchezza portando alberghi, ristoranti, partendo dalla cultura, quindi dando uno spazio immenso ad un paese che era assolutamente non conosciuto nel nostro ambito nazionale. Quindi lui racconta di questo sogno da 18enne che inizia a creare questo festival della cultura e piano piano è diventato un festival internazionale, ha portato il suo paese in ambito internazionale appunto. Chiudiamo poi la manifestazione con uno spettacolo di Peppe Biancardi, uno spettacolo bellissimo che io invito davvero a venire a vederlo perché è molto emozionante. Lui tocca praticamente tutti i punti della nostra vita sociale, dall'amore, dai principi, dalla legalità, dalla famiglia con un mix tra canzoni e musica live e lettura scenica. Io ricordo i musicisti, perché non voglio fare errori, c'è Massimo Davanzo, c'è Gabriele Borrelli, Giovanni Raucci che tutti noi qui conosciamo e Domenico Cioffi, quindi davvero un mix e uno spettacolo conclusivo davvero da non perdere. I media partner dell'evento sono UserTV e Angelo Vaccarillo per il caudino nella fattispecie, quindi si punta anche a valorizzare le risorse locali? Assolutamente sì, il nostro obiettivo è proprio questo, partire dalle risorse locali e partire da chi fa una discreta informazione e una buona informazione come credo faccia UserTV, un'informazione radicata, sempre presente sul territorio, sempre andare la notizia con i fatti e con l'essenza del giornalismo, vale a dire la verità.